ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un'altra puntatella dedicata ai vostri video un altro simpatico affabile episodio dei vostri video della reaction ai vostri video cioè i vostri orologi le vostre collezioni il vostro simpatico percorso in questo simpatico ed affabile hobby ho detto simpatico ho detto affabile se non l'ho ancora detto lo ripeto oggi abbiamo 5 video mi sembra 5 video anche forse 6 non mi ricordo quanti ce ne sono nella cartella quindi guardiamo un pochino di fare una puntata corposa sperando che la quantità possa sopperire alla qualità perché a volte la qualità lascia un po a desiderare e quando la qualità lascia a desiderare io mi ritrovo con una scimmia depressa non so se vi è mai capitato a voi ma quando la scimmietta si deprime diventa insopportabile perché comincia a mungugnare a guardare a destra a guardare a sinistra insoddisfatta cerca sempre quindi si spera che insomma ci siano degli orologi abbastanza interessanti diciamo per per noi siamo per noi facciamo finta che siamo noi a decidere l'orologio del giorno è questo simpaticissimo cartier santos orologio con quadrante blu numeri romani tutto il quadrante tutto bello pieno di roba e che a noi ci piace tanto perché insomma è un orologio che ha il suo perché soprattutto in questa configurazione qua extra large si chiama extra large l'ho scelto proprio il più grande che c'è perché secondo me l'orologio così di forma rettangolare deve essere bello presente mi piace presente bracciale in acciaio che fa il suo come si suol dire e lo idosso con soddisfazione adesso diamo un'occhiettella ai vostri bellissimi video e speriamo che siano bellissimi poi e poi niente guardiamo fuoco ciao davide ciao mi chiamo fabio fabio 57 anni e vivo presso francoforte ti seguo da qualche tempo e siccome ritengo il contenuto e formato del tuo canale molto interessante e informativo sto recuperando tutti i tuoi video che seguono strettamente una definita drammaturgia e sceneggiatura e questo rende il canale molto originale drammaturgia guardandole di fila si nota molto bene l'evoluzione del canale del formato dei contenuti del modo di raccontare di spiegare grazie bravo 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 grazie grazie molto gentile facciamo il punto è un mese fa questo questo timex marlin alla referenza t w 2 v 62 100 con un movimento miota della citizen l'ho acquistato dopo aver visto la tua recensione nella puntata dell'aprile 2023 se non sbaglio a parere mio dovrebbe essere il calibro 82 17 perché alla complicazione su su ore 3 è un sub contatore su ore 9 e l'ho scelto perché mi piace anche l'aspetto vintage la cassa a cuscino il quadrante nero numeri arabi al completo ci si convincono con grande sorpresa ho notato che il movimento ha uno scarto giornaliero di 3 più 3 più 4 secondi però senza fare carica manuale cioè portandolo al polso giorno per giorno testato sia con l'orario del mio telefonino sia con un orologio automatico o che un sito internet l'orologio a quanto potrebbe apparire è molto preciso se facciamo il paragone con la puntualità delle ferrovie dei vari stati sembra addirittura un treno svizzero effettuando la carica manuale invece cambia tutto rimanendo le paragone questo timex marlin diventa un treno italiano lo scarto giornaliero aumenta in modo esponenziale arrivando a spaventosi più 30 più 40 secondi ma anche di più capisco che non stiamo parlando di un movimento orologio cost è un movimento mulo non pretendo oltre però mi lascia un forte dubbio un dubbio incancellabile quasi una delusione sulla qualità davide come si spiega questa varianza tra carica automatica e carica manuale poi ultima domanda dato che il canale parla dei contatempi cosa ne diresti di cambiare la sigla sonora propongo time dei pink floyd almeno di tanto in tanto quando giri la camera per fare la recensione o come si suol dire anche in sardegna mi sembra di aver detto tutto un salutone a tutti i follower del canale e rock rock e per quanto riguarda la sigla che ti ringrazio per il suggerimento ma non è possibile utilizzare musica protetta da copyright perché altrimenti youtube o blocca il video oppure lo demonetizza bisogna mettere i crediti però viene demonetizzato insomma non lo sono non si può utilizzare musica anche quando mandate video che sottofondo c'è la musica io non ne pubblico perché la musica ha il copyright quindi poi insomma poi pink floyd a me non è che pink floyd le metto quando c'è da ascoltare la musica per addormentarsi sono rilassanti tranquilli minuti minuti di strumentale leggero a me piace la musica insomma un po spigolosa detto questo torniamo al tuo timex col miota 8000 all'interno che è un calibro industriale economico entry level che sicuramente subisce sente tutte le possibili variazioni che esistono al mondo temperatura pressione umidità di mio parametro è un calibro entry level ne risente molto cioè non è anche le posizioni la posizione del del polso testa testa in giù un coronatore in basso insomma varia molto loro ti danno un range di precisione di accuratezza che è all'interno di un certo dato di temperatura in una posizione capito vale poco poi è la media di tutte le posizioni che ti dà va bene poi detto questo no che insomma che è un calibro che non non è fatto per tenere il tempo o sempre ovunque sta cosa della carica manuale e della carica automatica mi lascia perplesso cioè io non sono un tecnico e non sono neppure un espertone quindi partiamo dal presupposto che non so risponderti a considerazione che si può fare è però che insomma in entrambi i casi sia il rotore di carica la massa oscillante sia la corona che giri te vanno a caricare una molla fatta diciamo a spirale da non confondersi con la spirale una molla fatta a chiocciola diciamo chiocciola una molla fatta a chiocciola vanno a caricare entrambi e poi è da lì che parte il treno del tempo cioè dalla molla caricata che si rilascia piano piano no ora quale differenza ci può essere tra caricarla manualmente e caricarla in automatico con la massa oscillante nessuna se non che l'unica cosa che mi sovviene che è palese che la carica manuale è più violenta mettiamolo così è più violente più repentina te con la carica manuale trun 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 stringi questa molla in pochi con pochi giri l'hai già portata al suo massimo mentre con quella con la carica automatica si carica piano piano solamente quando si muove la massa oscillante quel pezzettino si carica un pochino si carica un pochino quindi la differenza è tutta lì tra una carica repentina violenta veloce ed una carica dolce e lenta nel tempo quindi a questo punto penso che quell'orologio lì quel calibro lì risente di questa di questa differenza l'unica l'unica spiegazione è questa come non lo so non me lo chiedo perché non sono né un ingegnere né un orologiaio quindi è la prima volta che lo sento dire questo posso dirlo però la prima volta che lo sento dire sarebbe anche interessante che gli amici da casa provassero a fare chi ha il calibro miota 8000 io ce l'ho calibro miota 8000 attualmente non c'è nemmeno un orologio col calibro miota 8000 possibile non ce l'ho un orient ma che chi ha un calibro 8000 facesse sta prova qua di che verificare la tenuta del tempo con la carica automatica e con la carica manuale oppure se c'è qualcuno qualche espertone ci sono sempre gli espertoni nei commenti che sa il motivo e lo scrive qua sotto così rende contento sia l'amico qua che abita all'estero ma è sardo e sia me che non lo so non lo so posso mica sapere tutto io ragazzi ciao davide sono mario ciao mario oggi voglio farci vedere la mia piccola collezione di orologi da ragazzo di 20 anni quindi non avendo una grande disponibilità economica non posso comprare certo orologi di un certo costo però con i miei primi risparmi diciamo sono riuscito a farmi questa piccola collezione bravo partiamo dall'inizio dal mio primo orologio che è appunto questo classicissimo casio che credo tutti l'hanno avuto anche i non appassionati certo questo semplicissimo casio regalato alla comunione poi passiamo al mio primo acquisto perché ho chiesto a mio padre un orologio già da lì stava iniziando la mia passione volevo un orologio a 14 anni e allora il mio compleanno papà mi ha comprato questo citizen ce lo metto io perfetto si è andato nel negozio insieme mi ha comprato questo citizen e ne sono molto affezionato citizen ecodrive lo metto nelle occasioni diciamo un po più importanti negli eventi più importanti come ad esempio un esame universitario perché sono molto scaramantifo quindi bravo fai bene dai mi piace mettere questo primo orologino bravo ne sono molto affezionato ci garba poi passiamo a diciamo gli orologi che ho comprato a te non piacerà l'ho comprato giusto per provare l'ho trovato a basso prezzo questo a disdive che c'ha il movimento nh35 bene bene l'ho preso giusto per per togliermi lo spizio ancora non seguivo il tuo canale diciamo ma ha fatto bene ha fatto bene quindi ho fatto questo mio piccolo errore però io non è un errore ha fatto bene tutti quasi tutti i giorni per per quando magari c'è non ho paura di romperlo quindi hai fatto bene dai a disdive è un marchio che mi che mi fa proprio come dire defecare si può dire defecare noi italiano nel senso che è uno di quei marchi che sono stati creati inventati da qualcuno per copiare altri orologi e fare i soldi alle nostre spalle no cioè guarda come bellino che con cento euro c'è il tru 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 copia questo adesso copia questo è uscito un altro copialo tru tru così e dove resta questa gente qua no detto questo te nella tua tra virgolette ingenuità da neo appassionato ma nemmeno ne ho appassionato perché ripropo agli albori hai fatto bene a prenderlo cioè è giusto che ognuno passi faccia tutti gli step gli scalini prenda questo prenda quell'altro va bene va tutto bene a nel punto che siete lì così all'inizio va tutto bene magari posso fare una colpa a qualcuno a chi lo compra una disdive magari un pagani design fatto a modi rolex quando è già in età avanzata quando già una collezione strutturata e si prende quell'orologio lì per poi far finta no di avere da lontano sembra un rolex ecco quello è proprio proprio sbagliato come concetto anche diciamo quando faccio qualcosa di più manuale dove si può rovinare lo indosso poi passiamo al regalo che mi ha fatto mia zia il diciottesimo questo philip watch che a me piaceva molto perché appunto mi ricordava il day just però a te non piacerà è un corzone identico al day just proprio una copia quindi diciamo non non è un granché poi l'ideale sarebbe anche cercare di sviluppare un gusto proprio tale da sorpassare queste cose del tipo mi piace perché assomiglia a mi piace perché è uguale a mi piace perché cioè sorpassare questo punto qua cioè sviluppare un gusto proprio che abbia una certa identità no anche figlio della propria personalità in modo da ognuno ce l'ha e ognuno ce l'ha anche nel vestire nel scegliere oggetti ognuno dovrebbe essere un pochino un minimo di originalità so che non è possibile perché siamo un po tutti omologati no ma perlomeno riuscire a decidere di scegliere degli oggetti che rispecchino maggiormente la nostra personalità piuttosto che la personalità della maggioranza delle persone poi voglio dire se non gli piace quella cosa che piace a tutti ma perché ti piace proprio va bene va bene ci sta però sceglierlo perché piace agli altri e così puoi avere il consenso generale di chi ti guarda è quello è proprio sbagliato perché non è rolex è un philip watch una copia diciamo poi passiamo al regalo che ha fatto la mia ragazza e fidanzata philip watch a me piace molto sempre un philip watch al quarzo va bene e niente a te non piacerà è un regalo a me piace molto ma mi interessa non è che mi piace poi passiamo gli orologi che siccome mio nonno era un appassionato di orologi o sbirciando a casa sua ho ritrovato questi orologi guarda lì che bracciale nuova che ho fatto riparare al quarzo non conosco molto di questo orologio non riesco a informarmi su questo orologio perché non lo trovo proprio neanche su internet ma com'è possibile basta qui poi passiamo velocemente all'altro che questo citizen sempre di mio nonno sempre al quarzo con i romani ballo fatto anche questo aggiustare bravo funzionava vabbè ha fatto cambiare la batteria credo non so cosa abbia fatto il l'orloggiaio ci sta poi magari fatto riparare l'ultimo questo mondia mamma mia mamma mia ho fatto anche questo revisionare non andava ora io ragazzi non lo sapevo non ne avevo idea che mondi avesse fatto uno proprio del genere c'è una copia dell'odomar piggie royal oak più o meno da non l'avevo mai visto guarda anche te qua mi stai dimostrando no io ti voglio tanto bene ma che vai a scegliere gli orologi magari inconsapevolmente proprio può essere anche subcoscio però che sono copie degli altri è bello sto qua perché assomiglia al royal oak quando mondi ha fatto degli orologi che mamma mia che se li andiamo a prendere nel passato li prendi gli dici ma guarda come sono belli storiologico guarda che personalità guarda che stile perché non li rifanno anche oggi invece no quando una una casa prende la deviazione per andare a copiare gli altri e fare cassetta non fare cassa cash vuol dire che gli interessa solo quello non vuol dire che gli interessa sviluppare qualcosa un'idea un concetto un'identità capito odio sia sempre tempo per cambiare però quando vedo questi obbrobri qua mi scade proprio capito e poi o questo ho comprato io mi piaceva molto la cassa di questo orologio questo morti ma non so se si pronuncia così e meccanico allora da ho preso ho trovato un'offerta questo certo bene l'ho fatto revisionare bravo mi piace molto la cassa questo stile e dovrebbe essere di anni 70 si più o meno poi abbiamo questo qui che era di mio padre che non usava e l'ho ritrovato io ci ho messo un cinturino di 2 euro e me lo sono tenuto in collezione ha fatto bene ma cosa citizen al quarzo citizen quarzo un quarzo un quarzo un poi abbiamo diciamo il mio come ultimo abbiamo il primo acquisto logico il mio primo acquisto sensato che ho fatto anche grazie ai tuoi video anche questo iconico si dice che ottiene molto bello l'ho usato tutta l'estate praticamente a mare però non con questo bracciale ma ci ho messo quello binlun in caociù che ho visto dai tuoi video mi piace molto proprio ne sono veramente innamorato di questo orologio fa il suo iconico orologio e cori e niente questa è la mia piccola collezione ora voglio fare un nuovo acquisto il mio budget è di massimo 5 600 euro non so se tu puoi consigliarmi qualche orologio secondo te per per continuare per far crescere la mia la mia collezione quindi ti mando un saluto un abbraccio saluto tutti gli iscritti del canale e continuo così ciao davide ciao 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 una simpatica collezione diciamo da neofita quasi no quale tu sei c'hai vent'anni il budget è limitato è giusto che sia così tanti quarzoni anche ereditati qualche cioffecchetta qua e là beh sa così però sai qua c'è che ti dotto a ti dotto mi imbarba tutti quelli che dotto un po di incoraggiamento è ma soprattutto perché mi è piaciuto il tuo la tua ho percepito la tua passione ho percepito la passione il fatto che stai a cambiare i cinturini che gli metti quello questo qua li fai revisionare cioè c'hai passione capito nonostante qualche erroretto qua e là che puoi aver fatto durante il percorso che le abbiamo fatti tutti e li continuiamo a fare sempre e te ti meriti un belotto perché sei appassionato te lo sento dalla voce da come ti poni da ti sei innamorato anche del pro master figurati un po sono contento quando vedo ah nonostante lui dice c'ha la disdive mi ha fatto vedere un mondia che sei che il royal oak ma a me mi è piaciuta questa collezione qua il ragazzo mi è piaciuto proprio ok anche è umile non è supponente da dire io ho preso questo qua perché è meglio di tutti e non me ne frega niente se a te non ti piace mamma mia no bravo 8 8 ti do 8 poi il consiglio 5 600 euro che è tanto come budget no anche per un ragazzo di vent'anni è tanto quando io ero ragazzo sentivo parlare di orologi da 5 600 mila lire insomma la gente è matta capito sono tanti cosa ti posso consigliare io non lo so ne ho recensiti anche tanti entro 5 600 euro c'è una marea con citizen non sbagli ci sono dei seico 5 che non si sbaglia citizen seco bulova timex vostok ce ne sono ci sono anche dei rotary che sono bellissimi con 5 600 puoi prendere anche un usato di secondo polso magari già di quanti solo puoi prendere ma ora stai a sentire un secondo ora mi è venuto a mente no ci sono detti so le diver il pr 516 oppure anche il ocean star da 39 che costano 7 95 8 95 di listino se te va dall'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici e gli dici che ti mando io e poi gli ho detto lui e con 600 lo prendi nuovo vai tranquillo un bel ti so si star da 39 mm oppure il pr 516 che l'ho visto che è uscito non ci ho ancora messo le mani sopra vorrei metterci le mani sopra perché 7 95 secondo me è un best buy io te li ho consigliate questi due orologini qua poi non so neppure lo stile che le vuoi cioè cosa ti piace cosa non ti piace te l'ho messa lì così a caso poi amici anche voi scriveteli qualcosa vedete c'è una marea di orologi fino a 600 euro decenti ciao davide un saluto a te al tuo canale a tutti i tuoi fan te l'avamo già visti sono jacopo da padova ti avevo un video con questo corazzone bel regalone della cresima braille enorme impossibile da portare al polso perché sono sei etti ammazzi qualcuno se semplicemente gli appoggi il braccio sulla spalla sarò breve non te li faccio vedere tutti se vuoi preparare un bel ciò fecalert e questo gli ho messi apposta preparalo nel caso no perché passiamo alle cose un po normali questo è un oroggetto mi porto lavoro da tutti i giorni non ho paura di rovinarlo anche se faccio un lavoro da laboratorio lorenzo e lo so e degli anni 2000 però ha ancora un calibro etta diciamo che era quel periodo che lorenz stava ancora facendo qualcosa di suo carino carino è piaciuto prenderlo per quello anche se può magari cominciare già a somigliare a qualcosa di commerciale la carina acciaio è carino è morbido così con con cinturini pelle però stringiamo da quasi elegante se non mi dispiaceva l'ho preso bravo mettiamolo lì poi abbiamo un po di seiko 5 molto leggero questo lo uso quando magari vado in giro che non voglio di portarmi in qualcosa di impegnativo perché è piccolino sta bene sotto la camicia non lo nota nessuno non dà nell'occhio perché non si vede purtroppo non c'è più da fidarsi seiko sveglierino ah questo qua è bello assai eh tutto il suo fondello inciso seiko questo è tanta roba questo è carino ma anche un bel suono la sveglia la sveglia ci piace la sveglia seiko turtle mini già lo conoscete avia guardate che quadrante eh sì ci piace marino vissuto questo è bellissimo in realtà la cassa di un mombis però piano piano vedrò se riesco a trovare qualcosa anche se mi costerà il doppio che non fa a trovarlo già intero ma è una crocchione allora mi piace anche a volte cercare qualcosina sto a dirgli bello poi è una crocchione veniamo a suo fratello perché lui è un mombis con la cassa mombis allora è bello questo quell'altro no però mi piaceva il giochetto che hanno fatto con i pallini gialli in quarto d'ora in rosso no 20 minuti addirittura in rosso scusate no bello bello anche il colore che hanno preso il trizio bravo se ci piace questo almeno la cassa è sua si è contenti un onnetto degli anni venti in argento questo questo qua è proprio bello si sa cos'è passiamo agli anni 40 anni 40 e minori di età questo senti una felsa semplicissimo molto bello più che altro la particolarità è questa lunetta che è concava verso l'interno avvolgente al quadrante come di solito ma non so se si veda dal video depressione ma tende ad andare verso l'interno va bene si placatone questo non mi ricordo se trovo già presentato il mio primo crono che ho preso ha un belle mania tiene bene il suo tempo l'ho fatto anche revisionare la cosa che mi fa fastidio è che non ho le lancette tutte uguali ne sono accorto dopo averlo preso purtroppo si vede che quella dei secondi di minuti sono state perse però quadrante originale tutto originale il resto e spero un giorno di trovare le lancette sue un altro accrocchio eh tutte che tagliamo andiamo avanti con questo tecnos tecnos 70 questo è uno dei miei preferiti per la forma della cassa non amavo i quadranti di forma negli orologi di forma però questo mi ha fatto veramente innamorare sono particolari è questo bracciale prima o poi ci si innamoratissimo sembra di avere una seconda pelle non sembra neanche di averlo al polso fondello bello tutto inciso anche il bracciale col suo logo scritto tecnos anche all'interno della clasp questo top grade della eta addirittura ti sei 38 con tutti i punti lavorati le viti azzurrate è uno spettacolo davvero non ve lo apro perché non c'ho voglia di graffiarlo ancora che palle qualche graffietto del tempo ce l'ha questo è bellissimo in macchina lo sconsiglio perché ti acceca fa dei riflessi che uccidono soprattutto con gli indici a specchio così è una bagliante è una bagliante da questo un bel erodia cassa monoblocco semplice da usare domenica sotto la camicia come si legge per un ufficio questo si legge proprio l'oggetto del mio video a questo benedetto bracciale lui è un rado classico rado con la sua bella ancora che gira mi ha lasciato il suo bracciale nel senso che mi si è distrutto mi si è smontato intuire non era originale bracciale ma si staccano pezzi sto cercando un qualcosina non so se andare per mercatini o spendere una follia sul negozio originale perché costano troppo cioè io l'ho pagato meno di 200 euro che spendere 200 euro per un bracciale mi sembra un po esagerato un consiglio a te e i tuoi amici del canale un saluto love 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 e io sinceramente non lo so cioè il bracciale di prima non era originale ti si è rotto poi ce n'hai messo un altro che non è originale sinceramente io senza saperne leggere scrivere ci metterei un cinturino con un cinturino di pelle intendo dire di pelle risolvi il problema del bracciale originale bracciale aftermarket ci sta bene l'acciaio contro l'acciaio con un cinturino taglia la testa al toro e via perché poi dipende anche quanto tieni tu a un dato orologio quanto ci tieni questo l'hai pagato 200 però se ci tieni così tanto da pensare di non venderlo mai cosa che poi prima o poi no può accadere perché si cambia idea spesso io lo so dopo non puoi rivendere a un prezzo altissimo perché c'è speso dei soldi nel bracciale originale devi sapere che andrà a perderci qualcosa però dipende tutto dalla tua soddisfazione personale io però ci metterei un cinturino in pelle perché almeno non rischi di mettere un bracciale che non centri niente con quello che avevano pensato loro con il design che avevano pensato loro poi per il resto tutti i orologi una collezione diciamo improntata sul vintage pieno puro che va dagli anni 70 agli anni 30 addirittura cioè c'è delle cose interessanti degli acrocchioni che insomma sono un po da sistemare qualcuno gli manca la lancetta però ti sei sbizzarrito si vede che sei incline a questo tipo di collezionismo ognuno tutti i marchi praticamente anche quando sconosciuti quando scomparsi quando sconosciuti e comparsi e scomparsi insieme tecnos erodia addirittura al giorno d'oggi è rinata sta facendo gli orologi tecnos è scomparso però come dici te ha il calibro tutto rifinito lavorato top grade quindi pensa un po quanto potevano tenere a fare un prodotto curato nei dettagli ti do anche un 7 e mezzo nonostante non ci sia nessun orologio di spicco che dici di marchio di marchio che altisonante che ti fa riempire la bocca no uno mega vintage no non c'è sono tutti orologi di marchi medio bassi diciamo così però 7 e mezzo per il piacere di vedere qualcuno che riesce a collezionare gli orologi in questo modo nel quale fai ti e poi si preoccupa anche di volerli può risistemare chiaramente poi il limite il budget è quello che è non è che uno giustamente spende 200 euro per un orologio altri 200 per un bracciale anche se 200 per quell'orologio lì è poco è considerato che se costa 200 bracciale l'avresti pagato 400 ci siamo dentro è ora a dire la verità 400 euro un orologio un rado con il bracciale originale io te li darei quindi mi rimangio un po quello che ho detto prima ora ripensarci 200 euro l'hai pagato se è tutto ok è perché poi io da qua non è che riesco a vedere se è un accrocchione anche quello lì ci sono anche i rado indiani sai sono famosi i rado per essere assemblati poi in india con i pezzi che di fantasia comunque 7 e mezzo te lo meriti perché è una bella collezione sviluppata con gusto estetico e senso del dovere come è venuta così senso del dovere prossimo video ciao davide ciao ti vado a presentare una parte della mia collezione vabbè siamo subito da due quarsi da nello specifico 2 ti so cosa sono 38 mm legge altrizio grazie stile anni 90 grazie grazie davano a vite si ci piacciono molto sottili eh sì gli anni 90 gli anni 90 di rogers come jeans ti presento un taggoier automatico dai al grigio anche questo anni 90 corona vite questo piacerebbe al mio amico piero è lo vedo che logo applicato a ore 12 ci vuole piero in collezione questo cinturino dell'epoca taggoier eh sì bello dai non male dai pur essendo questi stilemmi così no anni 90? passiamo a uno zenith 35 mm questo è l'ultimo arrivato infatti ancora le pellicole come le pellicole? ma di quanto è sottologio? è contemporaneo? esiste a catalogo ora? 12 romani boh so che ti piacciono solo per il tuo vertiere solo per il mio solo per il mio e altri no come dress watch sì bello spera secondi non c'è cadono a fagiolo 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 poi passiamo a due longin uno cassa tv calibro 69 52 6952 bello questo orologio qua sì che bello guarda che satinatura si vede la satinatura perfetta l'intorno alla cassa mamma mia che bello indici applicati la linea conquest la data dial silver bello ci piace senti lì a proposito se mi puoi parlare di questo calibro 69 52 69 52 ce l'ho anch'io un orologio con questo calibro qua in realtà non è questo 69 22 mi sembra insomma tutti questi calibri qua con 69 52 72 22 sono derivati dal calibro record perché nel 61 longin acquistò la record che era un'azienda svizzera che faceva calibri propri per cui acquistandola si prese tutti anche i calibri che facevano loro in certi casi sembra di due o tre calibri è un 701 se non mi sbaglio anche insomma comunque questi 69 serie 69 qua sono della record rimarchiati longini perché ormai era diventata parte dell'azienda e danno che poi dimostrazione di come cominciavano già no andare un pochino giù a limitare le spese i costi questo qua sarà del 72 73 sarà di quegli anni lì la particolarità del 69 52 è che c'è la rimessa rapida del datario quindi con la corona ti metti la data velocemente 28.800 alternanza oraria quindi siamo già a considerarsi alta frequenza ma carica manuale sto orologio qua sto calibro e alla particolarità del fermo macchina alle ore 12 cioè cioè nel momento in cui è stai la corona invece che fermarsi la lancetta dei secondi lei continua fino a raggiungere 12 e si ferma lì stop ce l'ho io anche io 69 22 fa così si ferma e se ci pensate è una roba è una roba perfetta perché qual è il momento nel quale solitamente uno estrae la la corona per fermare l'orologio perché quando vuole sincronizzarlo alle ore 12 con un altro con un altro orologio no con un altro e quindi te lo fa da sola si ferma te lo ferma alle ore 12 perfetto insomma bello orologio si vede tenuto bene calibro insomma decente ce l'ho anch'io è di manifattura record però ed è decente c'è poco da dire siamo tutti contenti visto poco in rete e visto poco in rete anche il mio sito web un altro engine con calibro 69 22 è uguale è uguale 69 22 anche questo c'è il fermo macchina ore 12 no la differenza tra 69 22 e 69 52 e lo vedete quell'altro al datario e secondi al centro questo qua non al datario ai piccoli secondi cioè tutta la serie 69 si differenziava poi dagli altri numeri che seguono data non data piccoli secondi secondi ok ok 35 mm in un stile minimale l'ho tenuto bene questo secondo ore 6 leghe essenziale essi bello da mail oggi poi ultimo ma non ultimo l'orologio del giorno che questo seco 5 è bello mai visto chiamato cemento per ovvie fattezze 40 mm bravo col datario e come vuol dire fa il suo al suo cementificio bene davide bene questo è tutto per adesso ben complimenti per il canale grazie mille rock 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 se lo qua c'è quanto una lumaca proprio zero perché lasciare degli spazi dove uno si poteva anche infilare dentro fare qualche commento che tutto sommato ci sta ho mai fatto vedere qualche roggino io guardi don 7 perché solamente perché mi ha fatto vedere due login che mi fanno venire non a me ma lei l'acqualina alla bocca no e una baveta quando ha visto due login così ma ma ha fatto quasi tra così ma tu ma quelli lì non li compriamo e ce li abbiamo già ci abbiamo già quelli lì coi piccoli secondi infatti così dai più o meno le forme sono quelle cerchiamo qualcosa di e lei continua a dire ma non li compriamo ma perché non li prendiamo capito belli 7 te lo do poi il resto insomma c'avevi 6 o 5 cosa c'avevi anche di interessante tutti quegli roggini anni 90 che fanno molto fanno molto kitsch però piano piano vedrai che ci abitueremo quel design lì e cominciamo ad apprezzarlo come vintage al momento è anche faticoso considerare le vintage quelle degli anni 90 come tagoya ci sono tutti un po quei bracciali fatti così sono un po barocchi diciamo gli orologi degli anni 90 anche lì poi mi viene in mente rolex non è che ci cadeva per esempio in quella in quella trappola lì del design zero anche negli anni 90 rolex si faceva sempre uguali su marina forse la sua la sua il suo punto forte è proprio quello di non essere mai cambiata gli altri intorno si muovono e lei rimane sempre fissa con quei con quel design ma sarà prossimo video ciao davide sono giuseppe da barletta questo è il secondo video che ti mando bravo ti ringrazio per aver pubblicato il mio primo video per l'ottimo voto che mi hai dato questo è un aggiornamento della mia collezione ma iniziamo con questo casio duro versione marlin orologio ormai fuori commercio visto che nel 2021 tra casio e il proprietario del marlin non si è trovato l'accordo quindi questi dal 2021 sono ormai fuori commercio e orologio abbastanza portabile visto le sue generose dimensioni questo è un 44 mm di diametro cassa peccato al quarzo che perché se fosse stato automatico anche con un semplice miuta avrebbe fatto la sua porca figura ma se passiamo un altro a questo seiko skx del 1971 interamente originale che bello revisionato complimenti l'orologio che marcia alla perfezione io non la del 71 questo difficilmente si trova attualmente con pezzi originali visto che la maggior parte dei degli orologi di quell'epoca vengono sostituiti con parti after quindi sono prima stanza contento di averlo full original bravo bravo complimenti un altro pezzo che ti mostro è questo philip watch caribbean 400 un mini diver visto le sue dimensioni questo è un 3 eccolo qua quando si prende per il giro no sto a dire per il cubo scusatemi philip watch no perché faceva abbiamo visto anche prima simile digest no copie di orologi copie poi ti becchi sto qua che non so di che anno è ma sarà dagli anni sessanta eccolo quel caribbean ma ora com'è bello sto qua ma se facessero questo design qua no che non è niente di eclatante non c'è niente di spaziale stratosferico ecco il nuovo caribbean skin diver della philip watch però nel stesso tempo mi devi levare anche tutta quella rumenta che c'è intorno perché ti apri il catalogo di di una di queste case qua italiane pseudo italiane philip watch ti vedi centinaia e centinaia di di referenze di orologi da catalogo più o meno piaccioni copiati di qua di là fare piazza pulita e cominciare a mettere degli orologi pensati meno orologi fatti meglio e pensati meglio dai guarda che bello 36 mm orologio abbastanza raro con il suo dial champagne champagne gli altri quelli più comuni sono con il dial nero bianco o blu orologio abbastanza portabile lo indosso con questo cinturino nato in pelle visto che con cinturini in gomma ne ho tantissimi adesso differenziare un po bravo bravo amico barlettese un altro pezzo che ti mostro è questo lago questo lago sport un orologio abbastanza raro e che anche non ho mai visto sul canale però in pratica veniva dato in dotazione alle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale si assicuri purtroppo non è assegnato però è comunque se rimane un cimeglio storico visto che fa parte di un'epoca purtroppo triste come la seconda guerra mondiale questo è stato revisionato funziona perfettamente gli ho montato questo cinturino nato in pelle che secondo me gli dona un bel aspetto ultimo si va bene non me ne intendo sicuramente di erogico d'epoca addirittura per chi sa parlare della seconda guerra mondiale stavo zitto perché non so perché non so dirti niente ho visto però delle scritte lì sul quadrante dietro incise sul fondello incise che secondo me negli anni 40 non le facevano c'è un incisione che vista molto di orologio moderno non so sto dicendo una puttanata oppure vabbè però sai come ognuno dice la sua da orologio che ti mostro è questo omega si master 30 del 1963 valiamo a fuoco ok anche questo interamente originale la sua corona il suo fondello è anche originale però è la sua fibbietta quello che indosso come un dress watch visto che dress watch non ne ho quindi questo questo me lo faccio passare come dress watch ma lo è da bellissimo orologio mio parere certo perché nulla vediamo ok è nulla ti saluto e saluto ti ringrazio se pubblicherai questo secondo video un abbraccio love 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 a ti do anche un bel 7 perché tutti i belli orologi e ben presentati diciamo l'unico cioè poi avete visto che mi blocco anche quando non so dire non so le cose preferisco stare zitto no però ora già che siamo verso la fine ma ho messo via gli occhiali siamo verso la fine l'ho sparata il discorso lì su quello degli anni 40 il laco sport ma mo secondo te un orologio durante la seconda guerra mondiale lo chiamano laco sport mi è venuto a mente anche questa cosa qua poi dietro sul fondello c'erano le incisioni come se fosse un orologio moderno gli orologi d'epoca c'erano i fondelli lisci al limite un numerino un incisione commemorativa vabbè detto questo sono tutti dubbi miei e non metto un dubbio che ti hai fatto le tue ricerche sai quello che inserete te l'ho dato gli orologi sono belli l'omega finale lì stupendo lo farò considero un dress watch e no come lo consideri lo è è nato per quello essere un orologio elegante della domenica come suol dire niente belli orologi bella collezione e ti sei anche messo in esposizione abbastanza correttamente quindi io dico che si è promosso e aspettiamo il terzo video se sto qua era secondo a sto punto invece poi anche voi dite la vostra lì sul discorso dell'orologio laco sport della seconda guerra mondiale boh boh a me mi sembra di aver detto tutto ai ragazzi non è che posso stare qui con voi ci starei a ore ed ore lustri secoli e millenni a parlare con voi ma purtroppo mi aspettano i gattini su instagram che fanno quei saltini sono iscritto alla pagina come si chiamano i gatti conquisteranno il mondo ci sono di quei numeri acrobatici che vi ricordo gli appuntamenti fissi che come al solito sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'abbiamo 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 ciao